In verità la partita dell'amatese e dell'FC Matese è stata una partita importante, è stato soprattutto un buon esordio d'inizio per Corrado Urbano che è ritornato all'FC Matese. Una partita in un secondo tempo mostruoso, devo dire la verità, forse Porto d'Ascola ha sottopautato soprattutto la squadra di Corrado Urbano che onestamente ha mostrato una grande superficialità ma soprattutto un grande coraggio. Perché il primo tempo di Porto d'Ascola è stato veramente mostruoso e onestamente i miei complimenti li vado a fare all'allenatore, all'FC Matese sperando veramente tanto che possono andare avanti a recuperare tutti i punti che loro asservano proprio per rimanere in questa categoria che gli compete.